Ciao a tutti da Virgo e benvenuti per la terza ed ultima puntata della serie consigli per gli acquisti riguardanti la Premier League dopo aver analizzato il Barnmouth e il Watford ci manca analizzare Norwich che è arrivato ultimo in classifica a soli 21 punti e quindi sarà protagonista della prossima championship in questo elenco di giocatori non ho messo, ripeto, profili interessanti che però sono arrivati in questo mese di luglio quindi ad esempio un Kieran Dowell oppure un Jakob Lungi Sorensen che è arrivato appunto dall'Esberg a fine del mese scorso quindi partiamo dalla difesa, devo dire che non ci sono tantissimi giocatori interessanti perché comunque è una squadra sempre che è retrocessa e quindi, ecco, sicuramente la Rosa ha i suoi limiti contando che in Rosa hanno appunto anche un certo Leitner che nel 2017 ha fatto tante panchine con la Lazio e ancora prima tante panchine con il Borussia Dortmund quindi voglio dire, ok, non stiamo parlando di una squadra super eccelsa ma comunque partiamo appunto da difesa il primo nome è Ben Godfrey, classe 98, valutazione, trasfermarsi, 10 milioni di euro, contatto di scadenza nel 2023 nel video di ieri del carciomercato in Milan vi ho detto che valutano questo giocatore come un'opzione il limite secondo me è il discorso appunto del valore che il club ha il giocatore perché comunque la squadra inglese richiede sui 30 milioni di euro e onestamente per un giocatore così 30 milioni di euro sono tanti, per l'amor di Dio buon fisico, buon lancio di destro, anche lunga gittata, buoni interventi difensivi sicuramente un profilo futuribile avendo appunto soltanto 22 anni però, ripeto, sempre un difensore di una squadra che ti è retrocessa voi immaginatevi un cistana di turno che viene ceduto per 30 milioni di euro secondo me non ha senso comunque, sicuramente un profilo futuribile membro della Nazionale Under 21 e voglio dire, un investimento volendosi si potrebbe anche fare però, ripeto, non assolutamente a quelle cifre passano sulla fascia sinistra Jamal Lewis, classe 98, contatto di scadenza nel 2023 valutazione di transfer mark, 11 milioni un terzino di ottima spinta di grandi inserimenti offensivi, con ottimi tempi ma la sua particolarità è che tocca il pallone il pallone quando lo tocca lo mantiene sempre molto vicino al piede quindi, facendo questi piccoli tocchi che non lanciano davanti di 5 metri è anche difficile contrastarlo perché ha velocità di esecuzione e velocità di gambe quindi magari te lo allunga di un metro 50 centimetri e poi te lo sposta e quindi è appunto difficile affrontarlo ottima proiezione offensiva e lui è, ripeto, uno dei classici terzini moderni che ama molto di più la fase offensiva che difensiva sempre sulla stessa fascia ma l'anno scorso è stato in prestito al Coventry fino al maggio 2020 Sam Callum, anche lui, classe terzino-sinistra appunto classe 2000, è entrato appunto al prestito contatto di scadenza nel 2024 valutazione bassissima 750 mila euro un profilo molto simile a Jamal Lewis però lui è un po' più difensore ha più le caratteristiche da difensore, da terzino che comunque sa affrontare il difensore corpo a corpo 177 centimetri, uno in meno di Lewis ma l'anno scorso appunto con il Coventry 26 partite, due gol e tre assis quindi per un classe 2000 potrebbero comunque essere buoni numeri un investimento che potrebbe essere interessante ovviamente non più arruolabile per una primavera però magari faccio un esempio stupido per una squadra tipo la Juventus che magari cerca di un terzino-sinistro te lo prendi dal Norwich te lo metti nell'Under 23 quindi un profilo sicuramente interessante ma ad ora non più magari di una nostra serie B mettiamola così sicuramente la punta di diamante il terzino di diamante della squadra terzino destro valutazione 20 milioni di euro quindi neanche pochi con tratti di scadenza 2024 Max Arons anche lui classe 2000 però veramente un giocatore molto 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 atipico io per lui non prospetto un futuro da terzino grandi doti balistiche ottimo dribbling anche piccolino o meglio non altissimo comunque c'erano 78 cm non è che siano poi pochissimi ma ben piazzato ottima corsa anche lui mantiene molto il pallone vicino al piede ottimo controllo dribbling fantasia come terzino? non lo so non lo so nel senso che comunque in Italia dove il pressing è alto dove comunque non puoi tanto cincischiare secondo me questo Max Arons potrebbe avere dei problemi è molto più un terzino da Spagna no? tipo la Real Madrid faccio un esempio che aveva Roberto Carlos e Michel Salgado c'erano questi terzini alti che attaccano 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 però ripeto come fase difensiva potrebbe essere lacunoso ad esempio io lui lo vedrei bene all'Inter perché uno così con tre dietro può spingere non è richiesta un grandissimo dispio di energia in fase difensiva quindi ripeto secondo me potrebbe essere un buon profilo per l'Inter ripeto Max Arons classe 2000 scadenza nel 2024 valutazione 20 milioni di euro secondo transfer market alto profilo Kenny McLean di esperienza uno scozzese del 92 quindi 28 anni centrocampista centrale che può fare anche il centrocampista di sinistra Mancino e secondo me è più una mezzata nel senso è un dispensatore di gioco buon lanciugo col Mancino buoni inserimenti offensivi diciamo che si dà più si dedica più al servizio della squadra piuttosto che alla giocata o al cercare la conclusione infatti in questa stagione 37 partite un gol e un assist ripeto un profilo che non è eccelso non è eccelso però per una squadra di basso livello in Italia ci potrebbe stare nel senso un benevento che mi spenderebbe una certa cifra per questo Kenny McLean potrebbe rivelarsi il Kragel 2.0 cioè nel senso un giocatore interessante che puoi dire la sua si fa quei due o tre anni magari poi lo dai via scadenza di contratto insomma però puoi dare una mano quindi Kenny McLean scozzese classe 92 1.80 di altezza contro di scadenza nel 2021 quindi il prezzo non sarebbe neanche tanto alto e votazione di transfer market 3.5 milioni di euro da un esperto a un un talento un talento classe 98 che sembra sia già nelle mire del Liverpool il suo nome è Todd Cantwell un giocatore che è prettamente un centrocampista di sinistra ma che anche da mezz'ara può dire tranquillamente la sua in stagione 37 partite ben 6 gol e 2 alzis per un classe 98 quindi esordito nel 2019 con l'under 21 inglese un giocatore che ancora deve formarsi fisicamente perché se uno lo vede dice ok questo è un 2002 sebbene sia di 1.77 di altezza ma è ancora acerbo però forse anche per questo per questa sua leggerezza per questa sua agilità diciamo si libera molto facilmente gli avversari in più è un destro che gioca a sinistra quindi può fare anche l'ali invertita buon dribbling si può centrare in mezzo al campo può dispensare il gioco insomma un profilo molto interessante che può essere appunto utile sia sulla fascia che al centro del campo Todd Cantwell classe 98 con tratti scadenza nel 2022 e anche per lui sicuramente anche per l'interessamento dei grandi club insieme a Arons la perle di diamante la punta di diamante di questo uno dei punti di amante di questo Norwich 20 milioni di euro di valutazione quindi secondo me difficilmente potrebbe essere oggetto desiderio da parte di società italiane andando in attacco Emiliano Buendia scusate Buendia Argentino classe 96 votazione 14 milioni e mezzo contratti scadenza nel 2024 stagione a livello realizzativa a livello realizzativo pessima perché comunque tende a 6 partite un gol però ben 6 assist un giocatore che funge molto del regista largo nel senso che comunque è un fisico un po' stile Carlitos Tevez quindi l'essere un po' ingobbito corsa forte corsa potente molto di diciamo di grande frequenza di falcate molto difficile da buttare giù molto difficile da affrontare destro di piede che gioca prettamente a destra tecnicamente in un 4 e 3 sarebbe un pottimale bravo nel dribbling dispensatore assolutamente di gioco un buon regista largo potrebbe al limite fare anche il trequartista e magari potrebbe essere anche un profilo futuribile da questo punto di vista quindi mi sento di mettere in questa lista anche il nostro buon Buendia classe 96 contratti scadenza nel 2024 14 milioni e mezzo di euro per lui come cartellino allora questo giocatore per lui potrebbe essere veramente l'ultima spiaggia ma se io potessi consigliarlo lo consiglierei per una squadra di media diciamo portata magari non come titolarissimo ma come giocatore insomma come rincalzo Timo Pucchi finlandese classe 90 contratti scadenza 2022 valutazione 8 milioni di euro in stagione ha fatto tende a 6 partite 11 gol e 3 assist 180 cm per lui una prima barra seconda punta adesso di piede buon feeling col gol buone doti balistiche che può giocare alla fine su tutto il fronte attacco sebbene il suono principale sia quello di punta centrale di movimento o comunque seconda punta ripeto nel ruolo di punta centrale ha giocato 249 partite ha segnato 119 gol quindi più o meno un gol ogni due partite e non è poco per anni ha giocato nel Brunby e lì ha fatto veramente grandi prestazioni quindi un classe 90 30 anni però come diciamo acquisto per una scuola di media medio-bassa classifica fosse anche il Torino di turno sicuramente farebbe molto meglio di Zaza quindi Timo Pucchi classe 80 nazionale finlandese ben 80 presenze con la Finlandia 25 gol contro la discrenza 2022 8 milioni di euro votazione di Transfermarkt ora ultimo profilo che è probabilmente l'opposto di Pucchi vale a dire un classe 2001 di 190 centimetri nazionale irlandese bassa valutazione di mercato perché Transfermarkt lo valuta un milione e mezzo con la discrenza del 2023 stiamo parlando di Adam Haida un giocatore a punta del 2001 190 centimetri e nazionale ottimo feeling col gol sebbene in 11 partite non abbia ancora segnato dai professionisti però col nazionale ha segnato veramente tanto quindi nell'under di 21 5 gol in 11 partite se andiamo indietro diciamo a più o meno il 50 60% in rapporto presenze gol fatti di percentuale realizzativa quindi voglio dire un giocatore veramente interessante un centro avanti una prima punta moderna molto stile scamacca ricorre parecchie volte questo paragone però è molto simile a lui perché comunque il baricento che tende ad essere per il centro basso quindi non solo forte ma anche potente veloce forte fisicamente come veloce intendo scattante sul breve boom parte subito non è che uno dice veloce però ha queste leve lunghe che dice beh l'altro gli fa dieci passi lui ne fa due e il gazellone va sicuramente più veloce no ha una frequenza di passo molto rapida ripeto tendente al brevilineo e si mette tanto al servizio della squadra tanto tanto lui è destro di piede ma non disdegna anche l'uso del mancino quindi per un prezzo di un milione e mezzo di euro sicuramente questo Aida Maida potrebbe essere un ottimo prospetto bisogna vedere veramente la votazione che farà Norwich perché non mi sorprenderei se ci puntassero l'anno prossimo per il campionato di championship ma in un contesto tipo la Juventus del 23 io ci farei l'investimento sborsi 2-3 milioni di euro lo prendi lo metti in under 23 lo fai crescere sotto di te e secondo me questo Aida Maida potrà dire la sua nel calcio che conta quindi con questo con questo giocatore diciamo finiamo le puntate riguardanti la Premier League vedremo per le prossime puntate magari la Bundesliga comunque se il video è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un piacere condividete attivate la campanella per le notifiche questo è tutto da Virgo un abbraccione e ciao come on it